Secondo me è una manovra per farci chiudere e mandarci via. Commercianti di Corso Federico II sul piede di guerra, multirraffica nei giorni scorsi, con i vigili urbani a presidiare il centro e fornitori raccontano i commercianti che non hanno avuto la possibilità neanche di scaricare le merci nei negozi avvicinandosi con i mezzi. E poi il problema dei parcheggi che persiste, con la chiusura di via Iacobucci per rifacimento della villa comunale che si fa il look e con Piazza Duomo interessata dai sottoservizi, tanti parcheggi vengono sacrificati ed è sempre più caos, una situazione che si fa ogni giorno più difficile. L'assessore comunale Carla Mannetti ha rassicurato più volte dicendo che le questioni verranno disciplinate mentre è pronta la bozza di disciplinare che sostituisce il regolamento del 2013. Ma intanto ogni giorno si contano danni e molte e i commercianti chiedono almeno il ripristino delle strisce del discorario, cosa che il comune ha già detto sarà fatta a breve. Al comune chiediamo di fare un po' ordine in questa via specialmente perché qui il traffico è diventato veramente un caos quindi chiediamo che vengano ripristinate le strisce e quindi almeno di fare le strisce bianche dove mettere il discorario in modo che tutti possano avere un ricambio di queste macchine perché sono macchine ferme giorni e giorni quindi impediscono anche a noi di lavorare. I sottoservizi, la Gran Sasso Acqua ci sta rovinando letteralmente le attività. Non lavoriamo più. Non è soltanto due giorni che sono venuti i vigili urbani che hanno fatto le multe a scatafascio. Cioè certamente ci stanno anche le multe e bisogna farle perché ci stanno i maleducati. In giro che mettono le macchine davanti ai negozi, se ne vanno non controllano nemmeno se i negozi sono aperti o chiusi. Questo è però oramai l'Aquilano, questo è grave quello che chiedevo, oramai l'Aquilano un po' si era disabituato a venire in centro perché si sposta nei centri commerciali ma adesso maggiormente col fatto di avere questa spada di Damocle sopra la testa per le multe non ci viene più. Quindi ce lo dicessero apertamente, guardate voi rompete le scatole per non dire un'altra cosa, chiudete, andatevene.